Alla fine gli applausi sono tutti e solo per Walter Zeng e il suo crotone. San Siro sponda Inter, riabbraccia l'omoragno e fa i conti con l'ennesima giornata, serata nell'occasione, no, de Nerazzurri. La squadra di Spalletti continuo, Mastica e Ramaro in campionato, non vince da otto partite e al termine della gara viene coperta dai fischi. Il merito è tutto del crotone che va sotto a gol di Eder nel primo tempo, ma non si scompone. Con calme Pitagorici riacciuffano il pareggio, retta di Barberis la seconda in tre partite e si permettono il lusso di far venire brividi all'elettroguardianerazzurra nel finale. Trotta però non è fortunato davanti ad Andanovic e l'Inter si salva, ma per adesso va bene anche così. Otto punti in otto partite per Zeng e i suoi, la media è da salvezza piena come la fiducia sul trener rosso-blu che si riprende San Siro e punta dritto alla permanenza. Io sono convinto che questa è la strada per poterci salvare, perché tanto in Serie A oggi se non ci metti tanta qualità non vai da nessuna parte, primo. Secondo, trovi delle squadre dove rischi di perdere 15 partite e allora tanto vale giocarsela. Visto che c'è da giocare, siamo 11 contro 11, giochiamola alla grande, poi vediamo. Alessio Buonpasso per la Cineus24. Grazie per la Cineus24.